Abbiamo già detto l'Asia, non è più tollerata, io ragazzi c'è più senso. Dopo tutti questi mesi è necessario che lo strumento funzioni. Da un lato registriamo, soddisfazione, grandi soddisfazioni, come dire, anche per contribuire la discussione tra i numeri dei rumorosi Novavax e la realtà delle cose, la presenza di tante persone, cittadini stranieri, ragazzi giovani che vogliono vaccinarsi e non vogliono vaccinarsi. Dall'altro certo era prevedibile, era un'idea e ci avevamo anche in momenti precedenti segnalato che poteva esserci una situazione del genere perché c'è la voglia di fare vaccini. Questo significa che quell'assalto in una città come il Prato era da mettere in conto, è stato gestito con l'altezza della situazione. Bisogna assolutamente che il soggetto gestore, la regione, trovi in modo di sistemare, di gestire i numeri e saranno ancora, a corso dei prossimi giorni, secondo me elevati di afflusso per i centri vaccinali nella maniera più viaggia possibile perché se no, sì, si torna a scene che sono già state viste a dare i centri vaccinali e che speravamo di averne finalmente superato.